Giuseppe Peviani non ce l'ha fatta. Nonostante i tanti incoraggiamenti ricevuti, l'ex calciatore di Cavese, Turris e Campobasso, tra le altre, è deceduto all'età di 68 anni a causa del violento incidente stradale dello scorso 27 luglio mentre stava rientrando dal Milan Camp di Agropoli alla guida del suo scooter. Nativo di Milano, Peviani da calciatore era stato un attaccante. Dopo aver iniziato nelle giovanili dell'Inter, si spostò nei primi anni 70 in Campania per tentare di affermarsi nel calcio e arrivò alla Cavese con cui giocò nel campionato di Serie D. Poi ha continuato a giocare nella nostra regione con numerosi altri club per poi scegliere la strada dell'insegnamento di educazione fisica. Negli ultimi anni Peviani aveva anche allenato le giovanili, pure quelle della Cavese, e aveva continuato a frequentare Cava dei Tirreni pur facendo la spola tra questa città e settimo milanese dove risiedeva. Ha svolto nell'ultimo campionato di Serie D il ruolo di direttore tecnico e anche di allenatore della Frattese, partecipando di tanto in tanto alla nostra trasmissione gonfia la rete come opinionista. Inevitabili i messaggi di cordoglio di numerosi tifosi e amici i quali speravano che Peviani potesse riprendersi. E anche la Cavese Calcio ha pubblicato il proprio messaggio di condoglianze perché vuole ricordarlo così, con quel sorriso e la voglia di vivere che contagiava chiunque. Ormai eri un figlio di questa città, scrivono i metelliani, che poi proseguono Buon viaggio mister Peviani, lasci un grande vuoto in tutti noi.